Ciao ragazzi, bentornati su Mega Wow! Oggi sono molto curioso di sapere una cosa. Quanti di voi amano gli animali e ne hanno uno in casa? Io, a parte le rane che mi fanno schifo, vado d'accordo più o meno con tutti gli animali. Mi piacciono i cani, i gatti, i topi... No, forse i topi no. Beh, ma purtroppo non ho mai avuto uno. I miei genitori mi dicono che sono già abbastanza impegnativo io. Ma non capisco proprio il perché. Opsi, ho combinato un casino! Beh, intanto che metto a posto, voi guardatevi il video di Barbara e i suoi amici a quattro zampe. Ciao Eppi! Lara, in tuo onore è truccata e ha anche il cerchietto da unicorno, perché viva gli unicorni! Oggi Lara è sul divano insieme ai nostri live pets. Ci sono ben quattro live pets, ossia due sono delle LOL e sono i live pets, i cuccioli interattivi delle LOL. Poi c'è, non sono tanto live pets, sono un po' più dorm. dorm, sleeping pets, perché dormono, sa che ha la copertina, perché ha freddino, è vecchietto, invece piccolina è in braccio a Lara. Ma oggi noi non dobbiamo scartare e unboxare i nostri cani, dobbiamo unboxare quelli! Questi sono i pets, ma in versione interattiva. La cosa bella è che anche loro sono a sorpresa. Quindi qui davanti c'è Fuzzy Fun e qui c'è Ops Dog, ma non è detto che troveremo loro. Infatti basta girare. Potremo trovare lei, oppure lui, o anche Bunny Han, che è tanto carina. Ci sono delle bustine. Eccolo. Oh! Oh! Il micino! Allora io ho trovato Fuzzy Fun, la gattina, e Lara. Oh! Che carina! Guarda quanto! Ma quanto siete carini! Allora, mischiamo le bustine, altrimenti sai che guaio. Allora, guarda quante, sembra Zira, guarda che panzetta. Sì, è lei, perché guarda che panzetta. Guarda che panzetta, ma quanto siete carini! Guardate la godina! Adesso dobbiamo capire come si accendono, probabilmente con il tasto On-Off! Oh! Che carina! Ma non è la cosa più cute dell'universo? Ciao, PCP! Guardalo! Guarda, le orecchiette si muovono! Muove le orecchiette! Muove gli occhi! Guarda, si possono mettere pure seduti! Pure seduti! Ok, questo video, praticamente, passerà con noi, che diciamo, oh, tutto il tempo va! È vero che tu sei carino, è vero? Tu sei tanto! Ma non vuoi anche la godina? Ok, vediamo che cosa succede quando mangia. Ha fatto un rottino! Ma ragazzi, fai rottino! Era buono! Poi, invece da bevanda. Ok, qui c'è un microfono, in cui se parli, lui fa qualcosa. Prova, vai a provare. Non fa niente. È stanco, si è stancato il tuo ala, è stancato. Dai, apri l'altra bustina. La pallina! Vai! E' contento! No, te lo ridò subito, non piangere! Bene, così? E il terzo oggettino trovato, guardate un po', è una fetta di pizza! Buonissima! Sì, gli è piaciuta molto. posso mangiarne una prima di metterla a posto? Adesso tocca la nostra amicina, allora facciamola mangiare. va troppo tenerezza. Che se fa il ruttino anche lei? Lei è educata? Lei è educata. Lei non fa il ruttino. Allora, apri la bustina questa qui, vediamo che cosa trovi dentro. Cosa c'è? Oh, un dolcino, un cupcake! Sei pronta? Buono, le è piaciuto moltissimo! Che contenta! Sì! Dai dai! Vediamo cosa è uscito. Cos'è? Un tablet! Un tablet! Vediamo cosa fa. Gioca ai videogame! Le piace! E' contentissima! Carino! Vi sono piaciuti? A noi tantissimo. Adesso sono stanchi però. Quindi adesso li mettiamo a dormire. Perché così riposano e saranno più, ancora più attivi, più live pets che mai la prossima volta. Ragazzi, grazie per aver visto questo video bellissimo e grazie per essere ancora qui su Mega Wow insieme a Barbara e Lara e insieme ad altri fantastici creator. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, e cliccate il tasto iscriviti e spuntate le campanelle così vedrete le notifiche quando vi arrivano. Ragazzi, come chiudiamo sempre i nostri video nel nostro canale ma li chiudiamo anche qui con un bacio a tutti quanti e un... Miao, miau, 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 miau Miao, miau, miau, miau Bapapau Ciao ragazzi! Ciao Eppi! Ciao! Ciao! Ma i cagnolini di Barbara sono fantastici! Che dormita che si stava facendo sotto la sua copertina! Ehi, sapete, mi ha dato una bella idea! Adesso mi metto anch'io il calduccio qui il mio cuscino e mi faccio una bella dormita! Ma voi che animale avete in casa? Cane, gatto o pesce rosso? A me piacciono i veloci raptor! Vabbè, continuate a seguirmi sul canale di Mega Wow! Ciao! Ciao!